Sono Samuel di Azione Salute e vi do il benvenuto nel nostro showroom. Oggi vi presento la nostra ultima novità, le minicar elettriche. Le nostre minicar sono dispositivi medici, detraibili e fini fiscali, non hanno bisogno di patente, assicurazione, bollo o targa. Possono circolare su strada, su piste ciclabili e nelle ZTL. Hanno un design elegante e sono dotate di pneumatici da 15 pollici che le rendono stabili e sicure, tettuccio apribile, dispositivo per assistenza alla partenza in salita, radio, USB, Bluetooth e telecamera retrovisiva che si attiva inserendo la retromarcia. Presenta un'ampia cabina, confortevole ed elegante, facilmente accessibile grazie ad un sedile multiregolazione. Il motore silenzioso da 1500 watt permette di raggiungere una velocità di 25 km orari ed un'autonomia di ben 50 km. La ricarica delle batterie avviene attraverso una presa da 220 standard e il tempo di ricarica è di sole 8 ore. Il cambio automatico e il volante anatomico assicurano un'esperienza di guida semplice ed intuitiva. Le nostre minicar star offrono totale autonomia e comfort. E ora andremo a fare una prova su strada. Contattaci per maggiori informazioni e vienici a trovare nel nostro showroom per una prova su strada. Grazie a tutti.